Ce l'ho, c'ho lo spot. Allora, prendi lì l'afgano, il laureato in legge, lo butti in mezzo a una strada. Gli strappi i vestiti, lo zozzi tutto e lo metti a chiedere l'emosina, tipo Terzo Mondo, con le mosche in faccia. E sotto una bella musica di quel pianista... No, è troppo triste. È troppo triste. Allora, banalizziamo tutto? Più banale. Prime Italia si occupa di inserire nel mercato del lavoro i rifugiati politici. Sono certificati dallo Stato italiano e non possono tornare al loro paese, devono per forza più stretto. Prime Italia si occupa di trovare lavoro ai rifugiati politici. Dai, dai. Dai, dai. Grazie.